Internet Festival, forme di futuro. Buonasera a tutti, io sono Donata Columbro, sono una giornalista e oggi pomeriggio sono qui per cercare di capire insieme a voi e insieme agli ospiti che arriveranno su questo palco perché parlare di migrazione e di migranti a un Internet Festival. Nella mia riflessione ho cominciato pensando a quante volte incontro un cartello di questo tipo fuori da un locale, anzi dentro un locale, un ristorante in cui siamo invitati a parlare tra di noi, non usare il wifi. Ecco, non c'è niente che mi dia più fastidio, soprattutto quando viaggio, quando sono fuori casa e ho bisogno di uno strumento di questo tipo, di connessione per parlare con le persone che invece non sono con me. E invece quanto mi faccia piacere quando in un locale trovo un invito di tutt'altro tipo come questo, vieni, entra e ricarica il tuo cellulare. E mi rendo conto che la mia situazione, ecco il cellulare per me è fondamentale, lo porto ovunque, anche sul palco, anche se so, mi rendo conto che la mia vita in questo momento non dipende da questo, ma scommetto che tutti voi in questo momento avete in mano questo strumento e anche a voi fa piacere quando trovate la possibilità di andare da qualche parte e collegarvi, mica per fare cose fondamentali ma per sentire le vostre famiglie, per pubblicare una foto su Instagram dei posti che avete visto. Ecco, in realtà nello stesso oggi, in questo momento, mentre parliamo, ci sono persone per cui collegarsi, caricare il cellulare, avere una connessione, è questione di vita o di morte. Questa foto è stata scattata nel campo di Calais un anno fa, Calais in Francia, un posto dove molti migranti si fermano prima di attraversare il mare e andare in Inghilterra. L'ha usata il New York Times in un pezzo dell'anno scorso per far capire a molte persone perché lo smartphone è per molte persone, molti migranti richiedenti asilo, uno strumento fondamentale e qualcosa di equivalente al cibo o all'acqua o a un riparo per la notte. Dopo il New York Times molti hanno ripreso questo articolo per far capire alle persone che usare la tecnologia per loro è fondamentale. Fondamentale perché, appunto, proprio in questo momento magari ci sono persone che da in mezzo al mare stanno mandando messaggi di SOS, quindi immaginatevi, in una situazione abbastanza critica per la vita, quindi per la sopravvivenza, messaggi che ricevono persone come Nawal Sufi, che ha 28 anni e di Catania, originaria del Marocco, lei è anche chiamata Lady SOS perché ha il telefono sempre acceso giorno e notte per captare questo tipo di messaggi di aiuto. Lei li rilancia attraverso la sua pagina Facebook e per fortuna ci sono molte persone che le rispondono e le danno una mano. Ecco, immaginatevi la vita di queste persone come quelle che, come avete visto il messaggio di prima, in mezzo al mare, ricaricate per favore questo telefono satellitare perché abbiamo bisogno di comunicare la nostra posizione alla guardia costiera. E anche se ci spostiamo più giù, più a sud, questa foto è stata scattata in Djibouti da John Seymour nel 2013, nel 2014 ha vinto il Wordpress Photo. Sono migranti, Eritrei, Somali, Etiopi, per cui il Djibouti rappresenta la prima tappa del viaggio verso altri luoghi di salvezza. Queste persone stanno cercando il segnale per chiamare a casa e per dire siamo salvi, almeno la prima tappa l'abbiamo fatta. Perché il New York Times? Perché si è dovuto utilizzare quelle foto, quelle immagini per dire, ehi, attenzione, ormai il telefono cellulare, la connessione internet sono parte della vita di tutti i giorni, sono un diritto umano. Perché non ci immaginiamo, intanto, che molte persone non solo migrano per venire in Europa, ma per stare anche nei paesi confinanti. E non ci immaginiamo che, anche per continenti come l'Africa, il cellulare è qualcosa di vitale, si fa di tutto, le connessioni aumentano sempre di più, le sottoscrizioni alla telefonia mobile, vedete anche dai dati, fanno raggiungere una penetrazione, una possibilità di avere questo strumento anche nelle aree rurali all'ormai 70% della popolazione. Con il cellulare in Africa si comprano cose, noi difficilmente, non so quanti di voi hanno mai pagato in un negozio con il telefono cellulare, ci serve la connessione innanzitutto. In Africa basta questo sistema, in alcuni paesi, qua siamo in Kenya, il sistema è in Pesa, Pesa in Svaili vuol dire denaro, basta una sim card senza connessione, è proprio mobile, denaro appunto nel telefono cellulare, trasferisco soldi, pago le tasse, pago la frutta e verdura al supermercato. Ecco, quando pensiamo a tecnologia, non pensiamo solo alla Silicon Valley, ma anche a questi esempi. E così come non ci immaginiamo appunto che la tecnologia possa essere così avanzata in paesi diversi dai nostri, non ci immaginiamo che la maggioranza di rifugiati in questo momento non si trova in Europa, nonostante tutti i titoli allarmistici che vediamo, i giornali, la crisi, è vero c'è una crisi, ma guardate nella mappa dove questo numero aggiornato a ieri, 4.793.000 siriani in fuga dalla guerra, la maggioranza si trovano in Turchia, Libano, Giordania. Andando in Giordania, questo è Zatari, è un campo profughi, uno dei più grandi del mondo. Se facciamo uno zoom a Zatari ci troviamo per esempio un negozio di questo tipo, che offre ricariche per cellulare. Il cellulare è diventato così importante, l'abbiamo detto, che l'UNHCR, oltre a distribuire cibo, acqua e servizi sanitari, distribuisce sim card alle persone che arrivano a Zatari. La tecnologia è usata anche come soluzione quando non si sa come affrontare il problema dei richiedenti asilo. Questa è una petizione lanciata su Change.org da Raniali, che ha 20 anni, viene dalla Siria, si trovava in questo momento sei mesi fa ai Domeni, questo campo in Macedonia, campo, metri e metri di filo spinato al confine tra Macedonia e Grecia. L'unico modo per avere un colloquio con un rappresentante delle istituzioni greche per fare la domanda di richiesta di asilo in Grecia o in un altro paese in Europa, di ricongiungimento con i propri familiari, era, almeno fino a che i Domeni era un campo attivo, una chiamata via Skype. Allora, pensate a quando voi accendete Skype con il suo rumorino noioso, quando non riuscite a collegarvi con qualcuno con cui dovete parlare, magari per motivi di lavoro. Ecco, per stare appesi a quel numero, stare appesi a una linea per le persone come Raniali, in quel momento era avere la propria vita appesa a un filo, un filo magari di connessione portata da volontari, ci sono i ragazzi italiani di Over the Fortress che hanno allestito, per esempio, ai Domeni, campi con delle aree nel campo con energia elettrica e connessione satellitare. Cosa è successo dopo che, vedete, Arania ha provato a chiamarle servito d'asilo per 20 giorni? Cosa le è successo? Non ha ricevuto risposta. Quando il campo è stato sgomberato, lei ha scelto di andare non dai militari, ma fino in Austria, è stata arrestata e le è stata data una scelta. O fai asilo politico qui, oppure te ne torni in Grecia, proprio a vedere se riesce a ottenerlo lì. Lei è stata messa di fronte a una scelta da cui dipendeva la sua vita, ha scelto di restare in Austria e ora vive in un campo profughi allestito dentro una scuola. Questione di scelte. Non sempre le nostre scelte sono di questo tipo, di vita o di morte. Noi abbiamo delle scelte che la tecnologia ci permette di compiere, anche solo dal punto di vista di come scegliamo di informarci. Concludo qui, prima di far entrare i prossimi ospiti, che parleranno dei loro bellissimi progetti legati alla tecnologia e alla migrazione, con un invito ad andare a cercare fonti alternative. La tecnologia ce lo permette, facciamolo. Grazie.